Cari fratelli e sorelle, domenica prossima 22 ottobre celebriamo la giornata mondiale missionaria e pensiamo che il messaggio di Papa Francesco per questa celebrazione sia il commento migliore al Vangelo del giorno. Infatti il Santo Padre, commentando l'episodio dei discepoli di Emmaus, afferma che i tre elementi per comprendere lo zelo missionario della Chiesa sono i tre momenti cruciali dell'incontro dei due discepoli con Gesù lungo la strada. Innanzitutto i loro cuori ardono nell'ascoltare la spiegazione della Sacra Scrittura fatta da Gesù, poi i loro occhi si aprono quando Gesù spezza il pane per loro e infine in fretta si mettono in cammino per ritornare a Gerusalemme per annunziare a tutti la gioia dell'incontro con il Risorto. Ci sembra che l'annuncio del Vangelo del primato di Dio dare a Dio ciò che è di Dio che ci viene dalle parole di Gesù. Si possa commentare egregiamente quelle parole del messaggio di Papa Francesco quando afferma che l'annuncio del Vangelo non è come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia. Segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. Cari fratelli e sorelle, è tutto per adesso, ciao e Dio vi benedica sempre.